C'è una piccola differenza da colmare sull'ingaggio da bypassare attraverso l'inserimento di bonus sul contratto a dividere Riccardo Marchizza e Lavellino dopo il via libera da parte del Sassuolo inizialmente orientato a cedere il giocatore al Cesena al trasferimento in Irpinia del promettente rifensore ex Roma il 19enne centrale capitolino vuole fortemente il bianco-verde ed è ad un passo dopo un lungo tiro e molla la trattativa è ai dettagli ma c'è bisogno di uno sforzo per coprire la totalità del compenso percepito dal giocatore così come garantirebbero lo stesso Cesena ed altri club di serie B per ottenere l'ok effettivo nero-verde ed arrivare al nero su bianco oggi è la giornata clou, l'ottimismo permane ma guai a dare nulla per scontato fino alla firma pure perché gli elogi nei confronti di Kresic e Ngawa da parte di Walter Alfredo Novellino al termine dell'amichevole con il Frosinone lasciano aperto se non altro un dubbio sull'evoluzione delle strategie della società irpina si vedrà intanto lo stesso Novellino è stato oggetto di un affondo pubblico da parte del suo ex presidente ai tempi del Modena Antonio Caliendo, grande allenatore, non si discute ma se lo tieni per un periodo lungo di tempo non si sa se sia un bene come allenatore nulla da eccepire, come uomo non saprei dire le dichiarazioni del numero uno del club emiliano a Sport Italia parole che c'è da scommetterci saranno replicate dal mister di Montemarano che intanto ha ordinato una doppia seduta di allenamento a porte chiuse in vista dell'esordio stagionale in campionato in programma sabato alle 20.30 al Partenio Lombardi contro il Brescia attivado un minuto narcotrista oltre Christine